Mister avete ottenuto un pareggio qui a Civitavecchia, un pareggio che viene accolto come dall'Eretum? No, no, abbiamo fatto un buon pareggio su un campo difficile anche dal vento, diciamo che il vento ha condizionato anche un pochino la partita abbiamo avuto le nostre occasioni, potremmo anche fare meglio sotto porta, però alla fine ci prendiamo questo pareggio e andiamo avanti Voi non avete moltissimo da chiedere al campionato adesso, però qual è l'obiettivo dell'Eretum a questo punto? L'obiettivo è quello di fare più punti possibili e di arrivare più in alto possibile, perché questo è quello che ci siamo previstati con la squadra quindi ogni partita per noi sarà importante, quindi da qui alla fine e quindi cercheremo di farle nel modo migliore Ugo Fronti è un Civitavecchia in grande emergenza, ha ottenuto un buon pareggio contro l'Eretum, si può appunto parlare di buon pareggio, un passo avanti verso la salvezza? Noi è quello che ci eravamo proposti, comunque quantomeno di muovere la classifica, poi se veniva il gol nella situazione in cui stavamo era tutto deguadagnato, al primo tempo abbiamo avuto una buona opportunità con Fuglia Meni che ha voluto tirare controvento da 30 metri, era solo potendo andare in porta poi se sbagliava, sbagliava, pazienza però, vuol dire lì devi essere più attaccante, pensare a far gol, no? Cioè troppa sufficienza, troppa leggerezza, anche il secondo tempo alcune palle che ha avuto le doveva sfruttare meglio la qualità non è delle migliori, nel senso che non è che riusciamo a fare grosse prestazioni, però siamo a 32 punti, ci teniamo stretti e continuiamo andando avanti però si impegnano sempre, lottano sempre, questo è l'aspetto più positivo anche in prospettiva delle prossime stagioni Grazie a tutti!